Piccola collettiva d'arte sacra è il titolo della mostra inauguratasi nello scorso weekend presso il Museo Diocesano di Gubbio, curata dall'Associazione Culturale La Medusa con il patrocinio del Comune ed il sostegno della diocesi cittadina. 17 gli artisti selezionati che ne hanno preso parte e che hanno dedicato le loro opere al rapporto contemporaneo con il tema della rappresentazione sacra attraverso visioni, linguaggi ed interpretazioni molto diverse fra loro. Abbiamo da poco inaugurato la mostra piccola collettiva d'arte sacra qui proprio all'interno del Museo Diocesano lo scorso sabato 17 ottobre. Abbiamo ospitato e selezionato 17 artisti facendo una valutazione di molte in realtà richieste di partecipazione che ci erano pervenute per portare questo progetto all'interno di questo ambiente. Il progetto nasce dalla volontà di comprendere ora qual è il legame fra gli artisti contemporanei e l'arte sacra. Venendo meno negli ultimi decenni la committenza da parte della Chiesa o comunque si è molto indebolita rispetto agli anni passati era interessante capire come in realtà il contemporaneo si approccia ancora al dato spirituale e quindi all'arte sacra. E questo ci ha permesso di fare una ricca selezione di opere anche qualitativamente estremamente notevoli con nomi molto importanti di artisti che si sono dedicati da anni all'arte sacra. Numerose le richieste pervenute all'associazione culturale da parte degli artisti volenti esporre le proprie opere sintomo di quanto la tematica soprattutto in una fascia anagrafica medio alta sia fortemente sentita e ricercata. Questo ci ha dato conferma che facendo questi progetti molto settoriali anche molto particolari un po' di nicchia perché effettivamente le collettive d'arte sacra non vengono quasi più sviluppate in realtà c'è una risposta positiva da parte degli artisti ma l'abbiamo visto anche da parte del pubblico perché sabato e domenica molti erano anche i curiosi, gli interessati a vedere appunto le opere qui al Museo della Cattedrale. La mostra sarà visitabile fino al primo novembre nei giorni ed orari di apertura del Museo Diocesano. Per ogni informazione è possibile telefonare al numero 075 922 0904.